Lo screening per l'epatite C è iniziato ormai da alcuni giorni, come sta andando? Possiamo dire che tutte le sedi sono attive per l'effettuazione del test, quindi sono operative sia le associazioni di volontariato che il nostro personale, per cui diciamo che ci auguriamo che l'adesione sia altissima, perché porterebbe all'eradicazione dell'epatite C, che è un'infezione molto brutta, ma anche se in questo momento ancora il vaccino non c'è, aggredibile con un semplice test di screening e farmaci efficaci. La campagna di screening è iniziata il 4 settembre ed in provincia di Pistoia le sedi attivate nelle quali effettuare il test sono in tutto 12. Per conoscere l'elenco completo è possibile consultare il sito dell'azienda sanitaria Toscana Centro. La campagna andrà avanti sicuramente fino al 31 di dicembre, non è prevista alcuna prenotazione, l'accesso è libero, è gratuito, la seduta è veloce, non ha effetti collaterali, si tratta di una semplice analisi con una goccia di sangue. Questo è un pungidito, quindi viene avvicinato al dito, viene punto il dito e queste gocce di sangue vengono messe dall'operatore in questo pozzetto dove vengono assorbite, viene messo un reagente in questa parte qui, un paio di gocce, a questo punto aspettiamo 10-15 minuti l'effettuazione della reazione e se è negativo il test viene rilasciato all'utente un certificato di negatività. Se invece fosse positivo è necessario un approfondimento per il quale serve un ulteriore esame che viene prescritto dal medico di medicina generale.